E' quasi pronto il progetto preliminare per la sostituzione della suvrustruttura del tetto delle scuole elementari Bertacchi di Chiavenna. A poco meno di un mese dal crollo, avvenuto il 14 dicembre scorso, il vice sindaco di Chiavenna, Davide Trussoni, si è detto fiducioso di poter iniziare i lavori entro la fine del mese di febbraio. In questo modo dovremmo essere in grado di rendere nuovamente agibile l'edificio per l'inizio del prossimo anno scolastico. Scartata quindi l'ipotesi, avanzata in un primo momento, del puntellamento temporaneo del tetto che, se da un lato avrebbe garantito l'accesso all'edificio in tempi più celeri, dall'altro non avrebbe comunque risolto definitivamente il problema. Visto che i ragazzi hanno trovato ospitalità all'interno della scuola secondaria, prosegue Trussoni, abbiamo deciso che fosse più opportuno far loro terminare l'anno scolastico all'interno delle aule loro segnate in via temporanea. In questo modo potremo attuare gli interventi necessari in un edificio sgombro di bambini. Bambini che, comunque, hanno ripreso il normale corso delle lezioni già dei giorni immediatamente successivi al crollo. Grazie all'ottimo lavoro sinergico tra collaboratori, insegnanti e amministrazione comunale, sottolinea la dirigente scolastica Eliana Giletti, i bambini sono stati ospitati nelle aule del primo piano delle scuole secondarie. I ragazzi più grandi, spostati ai piani superiori, sono stati comprensivi con gli alunni della scuola primaria, rispettando tempi e spazi dei bambini più piccoli che stanno seguendo le lezioni in totale serenità. L'edificio, ancora sotto sequestro da parte delle autorità giudiziarie, risulta comunque essere in completa sicurezza, non avendo riportato alcun tipo di danno nella sua parte strutturale. Per dare un messaggio forte alle famiglie, annuncia Giletti, vorremmo tenere l'assemblea con i genitori, convocata per la giornata di domani, all'interno delle elementari Bertacchi. Al momento siamo in attesa del via libera da parte delle autorità preposte. Grazie. 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 Grazie.